L'ambiente resta un business per le mafie, anche se quest'anno, stando al rapporto annuale di Lega Ambiente sull'illegalità, gli ecoreati scendono sotto quota 30.000. Malgrado questo, criminalità ambientale, economica e organizzata sono saldamente intrecciate e conducono affari lucrosi nel nostro paese. Quasi il 44% di questo malaffare si concentra in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A livello provinciale, invece, Roma è caput mundi degli ecoreati e, malgrado le centinaia di arresti di questi anni, dei comuni sciolti per mafia, gli ultimi anzio in Nettuno in provincia di Roma, i cosiddetti ecomafiosi nel 2021 hanno fatturato quasi 9 miliardi di euro. Il delitto in assoluto più contestato è quello di inquinamento ambientale, con 445 procedimenti penali, ma il maggior numero di ordinanze di custodia cautelare è scattato per l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, con 497 provvedimenti.